VIUS rappresenta la solitudine di chi, a 30 anni, vede la propria vita come una lista di obiettivi raggiunti, di chi, al massimo della fama, vede a fievolirsi il confine tra veri affetti, in particolare forti, mamma Sandy e Lil Wayne, e gli eventuali opportunisti. The Boy, dall'alto della CN Tower, osserva meticolosamente i dintorni della sua Toronto, accorgendosi di cos'è stato necessario sacrificare per ottenere tutto questo. A volte non sono compreso subito, ma i miei progetti invecchiano senz'altro bene, ma va affermato per Rapp Raider, ed in effetti così è stato. La solitudine e l'incertezza del futuro, che ad aprile 2016 sembrerà fossero un passo falso, sono oggi attuali e specchio dell'odierno. Siamo su questa terra per un periodo limitato, per questo mi impegnerò a prendermi cura di chi ci è sempre stato. Buon compleanno, views.